Ciao a tutti e sott'i e benvenuti in questo nuovo episodio di Sky Hunt Farm E che cazzo dico? Di Minecraftita, di Minecraftita! Sono qui vicino all'impianto di produzione del KFC Come vedete ci sono mille e mille polli che muoiono malamente Guarda qua, guarda qua quanta roba Poveri polli mi fanno un po' Mangia i polli che sono buoni, mangia i polli Madonna, perché non c'è il KFC dalle mie parti? So che è aperto a Roma ma da me non c'è Aspetta, non so, sì, dove aprire a Roma l'ultima volta che ho controllato Però boh, non lo so Eh, fotte sega Però dovrebbe esserci qua vicino a me Allora, sono andato qua a fare una visitina ai miei cavallucci E c'è qui Il cavallo di cui non mi ricordo il nome perché non ha un nome, non ha mai avuto un nome Dove avete dirmi un nome? Perché non mi avete detto un nome? Cattivi! In realtà non c'è manco la nametag per mettergli il nome Però vabbè, fotte sega Poi qua c'ho Hildegard, la famosissima Hildegard Perché Hildegard c'è avuto un casino boia per portarlo qua Quindi state contenti che Hildegard è ancora viva Ciao Hildegard Ciao! Non è la sella! Rimediamo su... Ciao Gruma Gruma, te sei sempre un po' particolare Sì Come vuoi te Andiamo subito a prendere una sella per Hildegard Perché voglio cavalcare Hildegard Ok, no, così suono male Voglio fare un giro su Voglio Seh Pendi una sella e andiamoci da qua C'ho guardato tutto il legno dalla farm di legno dello scorso episodio Mi avete inviato degli screen Mi sono arrivati degli screen su facebook Di... Di... Di una ragazza che ha provato a fare la The fuck Vabbè tirò una mela Oh, calmati un po' Hildegard Mi sono arrivati gli screen di una ragazza che ha provato a fare la farm Però non ha messo lo schermo protettivo La barriera protettiva sopra E... E quindi... Si vede tutti... Si vedono tutti gli alberi che se ne vanno a quel paese Ma quel paese è... Cioè proprio lascia stare Proprio un albero mille volte più grande degli altri Quello che dicevo lo scorso... Non mi morire illegale Quello che vi dicevo nello scorso episodio Vedi? Quello schermetto là E' strautile E' strautile Allora, oggi volevo fare il... Volevo o continuare con La farm dei guardiani Oppure Ehm... Fare la farm di legno Però ho detto Ma sempre costruire Sempre costruire Ma cazzeggiamo un pochino Che cazzeggiare fa bene Aspetta, fammi salire Se sentite questo suono E' perchè sto ricando il video di stasera Beh, di ieri sera Di... Di Skyhunt Farm E lo sto scaricando E lo sto caricando dal... Dal 3G del... Del telefono Perchè c'è mio fratello che usa la connessione E se mi tocca calcare il video E' bestime che tira Lasciamo stare E quindi Semplicemente Ehm... Sentirete ogni volta sto rumore Perchè quando quello è Il telefono Al computer Con il cavo USB Fa sempre sto casino Non lo so E' solo il cavo USB Sarà il cavo USB Che fa cagare Allora Cazzeggiare E come potremmo Cazzeggiare oggi Vediamo un po' Allora sono qui al... Alla farm di... Beh... Alla farm... Insomma... Come posso dire... Al villaggio Sono qui al villaggio E sto cercando di... E sto cercando di prendere un po' di... Smeraldi Signore... Si... Mi fai parlare con quel villager se permetti? Quello con la tunica violacea... Eccolo lì Questo qua mi... Mi serve Beh... E porcagna Dai Ecco qua Due smeraldi Grazie eh L'apprezzo Perchè io vi ricordo che devo ancora finire... Quella statua La finirò mai? Probabilmente no E come dico probabilmente no E' più un no sicuro che un no probabile Non so neanche quanti smeraldi abbia da parte Però già quelli sono un bordello di smeraldi Credetemi Sono tanti 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 smeraldi A un certo punto ho anche pensato Ma... Provo ad andare in uno dei biomi... Delle montagne E vado... Vado a scavare un po' Controllo qual è il... Il livello di spawning più... Più efficiente Ma che bello il mio ufficio Ciao Ehm... Vado a controllare più o meno Qual è il livello più... Più efficiente per cercare smeraldi E vado la Amen Probabilmente ci proverò anche E da tanto non facciamo un po' di mind come si deve Però intanto ho detto Boh c'avevo questa rotta in flash Usamola per... Eccolo sto rumore Dov'è? Dov'è? Ehm... Puoi fare cose serie Puoi fare cazzeggio E oggi Si cazzeggia Beh oddio Stiamo facendo anche un po' di progress Perchè sti smeraldi Prima o poi Bisognerà anche finirli Cazzo Dai Boom Boia Mi serviranno un minimo un altro stack di blocchi Lasciamo stare Lasciamo stare Lasciamo stare L'altra cosa è Voglio andare Alla farm di pozioni Non so se ho una barca Al porto Fai vedere Ehm... Meh No Non ho una barca al porto E ho anche pesato tutto il nello che avevo addosso Vediamo se c'ho qualcosa in una cesta Non mi pare che abbia ceste qua No nessuna barca Anzi quasi quasi bisogna fareci Una bella scorta di barca Voglio andare alla farm di pozioni Che molti di voi probabilmente non hanno visto Dato tutti gli... Io voglio ringraziarvi tantissimo Sono a 270mila iscritti E quando poco fa ho ringraziato per i 250mila Stiamo crescendo talmente tanto Che tra poco potremo conquistare il Ligistan Davvero Non so se neanche si pronuncia così Da quanto dovevo conquistare Cioè immaginate Ehm... La barca La barca Dove averla Qui Allora prendiamo queste barche Le mettiamo Al porto Eh... Sta anche diventando notte Quindi magari dormiamo Perché voglio evitare incidenti scomodi con i mob E dicevo molti di voi probabilmente non sanno Che ho una farm completamente automatica Di pozioni E' una roba molto bella Che mi ha portato via molto tempo E che... Ehm... Lo spiegherò in dettaglio nel tour del mondo Che pensavo di fare magari tra una decina di episodi Più o meno Ehm... Zucchero sono messo abbastanza bene Ehm... Un fiumgo marrone Di cui in realtà non sono messo benissimo con i funghi Infatti penso che faremo una farm dei funghi Perché non ne ho ancora una Ehm... Mappa che lasciamo stare Da denuncia proprio Da denuncia Da denunciare... Minecraft Peggio cosa Allora andiamo qui Ehm... Non vi spiegherò nel dettaglio come funziona Aspettate il... Il world tour Il tour del mondo Per quello Ehm... Intanto io non so se c'ho invisibility Allora devo essere sincero Allora devo essere sincero Mmm... Perché cosa... Non so se è pieno o meno Non so se l'ultima volta che sono venuto qua ho riempito le varie cose Guarda, guarda qua quanta redstone madonna Allora... Ehm... Magma cream Sugar No sugar non mi serve Golden carrot Vabbè mettiamo la golden carrot Non mi serve glistone nemmeno Blitz powder Glowstone Redstone Per fortuna ne ne abbiamo Allora spider eye Non lo vedo Spider 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 Sugar Magma cream Non c'è lo spider eye Ti... ti draghi? Perché non c'è lo spider eye? Non ho messo lo spider eye come ingrediente Eh vabbè mi toccherà farlo a mano Amen Eh ma non ho sto rumore ma andarno lo picchio tutto Allora Mettiamo qua dentro Tutte le cose E Se È tutto pieno come dovrebbe Si Dovremmo poter Iniziare Dovremelo qua sopra vero? Ok E facciamo invisibility Ora dovrebbe arrivare qui tra poco Oddio tra poco Tra... tra qualche secondo Una decina di secondi più o meno Dovrebbe arrivare in questo hopper la golden carrot Poi vi spiegherò bene come funziona A chi mi segua tanto so già come... come funziona in realtà E la golden carrot Ecco ho sentito I... i dispenser che funzionavano Amma Non vorrei che fosse già arrivato Come è arrivata la redstone subito? Ma no ti fai dei droghi? Ma no non dimmi che non funziona come dovrebbe Dai Ah Ok errore mio Devo fare la night vision prima Non c'è un bottone per la night vision? Eh ma mi scassi anche un po' il cabba zizi così Come no? Night vision eccolo qua Il primo Il primo Non ho messo il cartello ma almeno c'è Dai Per altri problemi Poi Allora da qui diventa night vision Night vision Poi con il resto diventa la night vision da otto minuti E poi la night vision da otto minuti Con il fermente spider eye Diventa Eh Diventa 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 Pozione dell'invisibilità Perché pozione dell'invisibilità? Perché voglio andare a cazzeggiare con qualche creeper Sè Ecco ora la domanda sorge spontanea Mmm Non è che posso trovare Dei cagli bastardi Mmm Oh Deve andare in qualche caverna Ma il problema è che sotto casa mia La maggior parte delle caverne sono Ben messe Va che bellina Va che bellina la mia isola volante Mua Va che bellina Ah che bellina Sto pensando dove io posso trovare tanti creeper Mi piacerebbe tanto farlo all'aperto ma Ah beh il sole sta quasi tramontando Allora aspettiamo qualche secondo Beh qualche minuto Eh sto rumore madonna ti picchio Ok è notte Siamo pronti Sì Sì E' pronto all'azione Ho con me una led Perché Non so Spero di poterlo Prenderlo come animale domestico No? Non si può prendere un creeper come animale domestico? Dai perché no? Non fa del cattivo Allora C'è una zona poco illuminata Mmm Non sento neanche rumori se è per quello Eh ecco Danno a caso Sento un ragno Ok c'è uno scheletro Allora io voglio vedere prima cosa Se con la passione delle visibilità mi vedono o non mi vedono Ok Non mi vede Ok C'ho Tons addosso Si che c'ho Tons Ok mi vede E' un problema E' un problema Mi vedono subito Oppure c'ho un po' di tempo per dire Si forse mi vede Forse non mi vede C'è tu una zombie C'è tu una zombie? Che cazzo Eh no C'è anche mi vedono Persona delle visibilità Neh Non così bellina Cazzo Persona delle visibilità mi fai vedere dei mob Che invisibilità è? Se mi vedono in mod Si mod E se mi vedono in mob come fanno a non vedermi i giocatori? Ah madonna Non è peggio cosa Il peggio cosa Madonna Non ha senso Guardalo Vedi da lontanissimo Devo Devo assolutamente aggiustarla sta cosa Se c'è una pozione di invisibilità Deve essere una pozione che non ti fa vedere nemmeno dei mob Ah vedi cosa sta Ah no sta scappando dai Non puoi cambiare l'ultimo Coglione Io cosa me ne faccio di queste persone di invisibilità? Mica è un server multiplayer questo Porca Ho trovato il creeper Ho trovato il creeper Ma No 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 Merda Merda Non mi vedi Non mi stai vedendo Non mi vedi Non sai dove sono Sono troppo furbo per te Dov'è? Non lo senti Non lo senti Eccolo qua Ok ok Non addosso alla farm di neve Bastardo Ok no non funziona Non funziona L'unico modo per rendere amichevole un creeper Non esiste Non esiste un modo L'unico modo diciamo per tenerselo con sé è attaccarci una name tag e basta Tipo ci attacchi la name tag e fai in modo che rimanga in quel posto quindi lo chiudi in un buco Gli costruisci una casa di vetro attorno Che infatti serve anche una cosa bellina Però a sto punto E dico a sto punto Dato che il name tag non è che io ne abbia 20.000 Sai cosa? Proprio perché non ne ho 20.000 andiamo a prendere name tag Via Putta sta roba qua che non mi serve C'è una roba che mi avanza Vedete Dalla Cos'era? Dalla 1.7 mi pare Insomma da una versione abbastanza Recente tra virgolette nella lista Non tanto temporalmente Se tu vai a pescare Oltre alla quantità di pesci Più alta che puoi trovare Ci sono anche degli eventi bonus Come ad esempio Le name tag Le name tag si possono pescare Ora è anche abbastanza facile capire Quando arriva Vedi tutte quelle particelle che Eccola 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 Eee Eee I pesci Vabbò Perfetto Sicuramente è molto più bello pescare rispetto a qualche versione fa Perché ci perdevi davvero le ore Vedo se riesco a trovare subito una name tag Ci vediamo Che culo Ma dico io che culo L'ho detto Faccio il pesce Name tag Troppo forte Troppo forte Basta il culo è durato pochissimo Perché ho preso la name tag E poi solo altre robe Ho preso Pesci Un osso Una bottiglia d'acqua Beh il pathfisher Sono contento Che almeno posso farci le pozioni Anche se non so che pozioni escono Sicuramente non mi interessa Però la name tag Ed è anche notte È anche notte Quindi potremmo Potremmo È pericoloso Perché abbiamo notato che i creeper non è che proprio Non ci vedano Però tentare non nuoce È vero Tentare non nuoce Beh in questo caso si potrebbe nuocere tanto Ho abbastanza vetro per devastare un cagno bastardo No Probabilmente no Però io No Non c'è manco più la palaver Che l'ho finita per l'altro progetto E allora affanculo Prendiamo del vetro verde Perché è verde? Non ne ho idea E vediamo Se riusciamo a prendere un creeper E a spingerlo in qualche trappola O meglio A costruirci qualche trappola attorno Signor creeper Non vedo nessuno Signor creeper Buongiorno Si Signor creeper No? Sicuro? Non ce ne sono Che bello Ho sentito i rumori Ho sentito i rumori Mi sono appostato qui per due minuti Eccolo i rumori Allora Che prendiamo uno zombie Che ne dite? Perché creeper Non so Penso Di aver bisogno di più addestramento Per affrontare il boss finale Che sarebbe il creeper L'anime sarebbe facilissimo Però poi se ne va Quindi fotte sega Se tu Vieni Di qua E faccia una cosa di questo tipo Ok Ora io ti do la nintag Vero? Vero? Vabbè non serviva Poi crea un Qualcosa qua sopra Che lo protegga da dal sole E abbiamo Sdrubale L'amico zombie Perfetto Sotto l'albero dovrebbe essere al sicuro Amico mio Dovesti essere a posto L'unica cosa è che Ehm No Non dovrebbe respawnare Perché O gli dai qualcosa in mano Oppure gli metti un nome Io ho messo il nome Quindi siamo a posto Signore e signori Abbiamo l'amico Sdrubale Bellissimo Bellissimo Certo Sarebbe stato bello Se Sdrubale fosse un creeper Ma non ce ne sono Dite ciao all'amico Sdrubale Nei commenti Mi raccomando Ciao Sdrubale Ciao Sdrubale Ciao Come Ehm Non si legge il nome però Peccato che non si legga il nome con Ehm Ehi senti Sto parlando con una Sdrubale Ok? Merda quanta roba che mi ha dato Power2 Quasi qua si faccia un bel archetto da questo Voglio vedere il nome ok? Per farti il saluto Sdrubale Ehm 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 Madonna Sdrubale Su vieni qua No non posso romperlo Tio fa salutare madonna Sdrubale Vieni Mamma mia Non ci sono più Gli zombre di una volta Eccolo qua E il nome dov'è? Il nome No 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 Oh merda Acqua no no acqua 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 mi ha fatto di un colpo a sdrubale madonna perché non vedo il nome ah eccolo qua devo passarci sopra con il mouse e basta sdrubale va che bellino sdrubale ciao sdrubale è stato bellissimo vi ringrazio tantissimo per la visione ci vediamo nel prossimo episodio in cui faremo qualcosa di bello questo era solo cazzeggio perché cazzeggiare è bello giotto dottette